Dopo la Palma d'Oro a Cannes, l'emozione è meno forte per questa candidatura oppure è sempre una grande... No, la manteniamo a un buon punto, sai, è come il film un po', sale, scende, no? Non è piatto, è una roba che è come un altro film. È comunque una soddisfazione. E' come se c'è una telecamera che ci sta riprendendo adesso, in questo momento, che non è quella, non è quella, è manco quell'altra, ma c'è una telecamera da sopra, o chiamo l'occhio di Dio, che mi serve per avere coscienza di me, di quello che sono, di quello... Non finia. E quindi, capito, per me è quella cosa là, è come avere la coscienza di essere ripresi sempre, per avere la responsabilità di agire come si vuole agire o per scelta. Senti, il film sta andando bene anche come incassi, a te cos'è che dà più soddisfazione? Questo oppure i premi? Cioè il pubblico oppure i premi? Ma non è per il premio, ci vogliono i fatti pure. A me mi dà soddisfazione il fatto che noi parliamo pure per il teatro, il teatro muore perché tu, alla fine, puoi vedere uno spettacolo che poi manco puoi pagare. E quelli come mancano per fare uno spettacolo sani? Morto da fame non si può andare a fare la guerra, come si dice. Cioè se no alla prima scorreggia ti buttano via. Quindi bisogna nutrirsi, bisogna mangiare, avere le forze. Per avere le forze bisogna che il pubblico riconosca il lavoro dell'attore, che è un lavoro. E quindi il pubblico lo riconosce col gesto di andare al cinema e fare il biglietto. Quello già è un gesto grandissimo, capito? Quello penso. Bisogna andare al cinema, se ci si crede. Se no poi non ci lamentiamo. Marcello, senti ma Jack ora ce l'hai tu a casa? Tu mi dici poi che scusami. Jack non è mio, la proprietaria era pure gelosa perché comunque grazie di Jack comunque alla signorina che dolcemente ce l'ha fatto conoscere. Devo dire che Jack è meraviglioso, il grande Jack. Sei stato un cane magnifico. Che manco di parte c'è. Più della mia, che devo fare? Cioè dormivamo insieme, l'ho letto in camera, uno lui, uno io. Poi se ne venivano il mio, la mattina me lo trovavo. Che dire? Jack, amore mio, bello. Amore. Ti rendi conto che una palma d'oro apre anche scenari internazionali importanti? Cioè tu c'hai quella foto con Leonardo Di Caprio, ti piacerebbe fare un altro film con lui? Ma lo sto a inseguire, lo sto a inseguire per dargli questa foto. Me l'avevano chiesto tutti quando ero lì al 2001. Lo sto inseguendo, siamo andati a una festa. Ti voglio vedere, ti posso vedere adesso dopo del 2001 che sono passati, quanti anni sono passati? 17 anni. Ti posso rivedere adesso, mi piacerebbe stringerti la mano adesso. Tutto qua. Grazie.